Ciao ragazzi lunedì pomeriggio quindi sappiamo che abbiamo il Tottenham ma avremo tempo per pensarci avremo tempo per parlarne la società avrà tempo per studiare il Tottenham il mister avrà tempo per studiarlo la società avrà tempo nel caso per fare le opportune aggiustamenti di mercato a gennaio per avere qualche chance in più in una partita che si annuncia comunque fattibile direi fattibile non so se ce la faremo ma è fattibile ma avremo tanto tempo per parlarne c'è la cremonese che incombe domani ci siamo poco più di 24 ore quindi pollicione se vi piace il video se volete questi sei punti iscrizione obiettivo 10.000 e la campanella per le notifiche intanto è già un grazie per voi allora cremonese abbiamo sentito le parole del mister oggi non si è sbilanciato credo che i dubbi siano sul reparto avanzato perché purtroppo in difesa avete sentito destra non c'è quindi i terzini praticamente sono spariti tutti sono rimasti solo calulo a destra e ballo a sinistra non abbiamo altri terzini scelta obbligata quindi speriamo di non risentire troppo della mancanza di di quel fenomeno meraviglioso che è teo sapete che io ho una una passione smisurata per teo per megnà per leao per benasser per tonali insomma per tanti però teo c'è anche il fatto ragazzi che dopo pochi minuti di della partita di sabato è andato a terra sembrava avesse un problema raduttore ragazzi un altro con in testa il mondiale tra una settimana magari diceva aspetta un attimo che mi fermo prima che rischio di non andare a giocare i mondiali ragazzi lui è entrato e che dobbiamo dire teo ha dentro il milan oramai ce l'ha dentro e noi abbiamo teo nel cuore nella testa e quindi quando non c'è povero ballo si deve sentire perché capisco che sostituire teo è veramente pressoché impossibile teo in questo momento è per me miglior terzino del mondo poi altri che che ne dicano per me teo in questo momento è il miglior terzino sinistro del mondo quindi ci mancherà come ci mancherà megnon la difesa sarà obbligata con calulu probabilmente c'è sarà kier almeno che non venga tenuto per la fiorentina e tomori e ballo appunto penso al centrocampo ben a serie tonali perché hanno giocato un tempo ciascuno sabato quindi probabilmente sarà sono un'ottima condizione perché stanno giocando benissimo tutte e due e avremo bisogno di loro anche perché non avendo teo ci sarà ancora più bisogno di geometrie e di loro a centrocampo i ballottaggi saranno davanti e saranno penso messias orebici a destra orighi orebici di punta e chars o diaz sotto punta ovviamente leao a sinistra e qui bisognerà vedere perché orighi per quel che ho visto io sabato il suo problema è il ritmo ha una chiara mancanza di ritmo che ci sta avendo giocato poco ci sta e quindi non so se farà due partite in così breve tempo potrebbe partire con rebici di punta e quindi a quel punto messias sarebbe messias che ho visto molto bene sabato devo dirlo l'ho visto bene sia tecnicamente che tatticamente ha fatto un primo tempo secondo me il migliore in campo del mina nel primo tempo quindi messias è in buona condizione ci sta che giochi lui magari con rebici davanti il vero dubbio quindi probabilmente sarà chars o diaz allora diaz l'ho visto bene nel primo tempo poi è sparito nel secondo sabato però giocando un buon primo tempo e chars è entrato a differenza magari di altre volte è entrato più cattivo è entrato più deciso è entrato più più tignoso e in effetti poteva segnare perché se non gli deviano quella quella palla che è finita sopra la traversa in calcio d'angolo probabilmente quella palla va dentro e sarebbe stato magari uno sblocco mentale importante lui il suo problema è chiaramente mentale cioè si capisce proprio lontano un chilometro quindi bisogna vedere bisognerà vedere se il mister da quello che ha detto oggi io ho interpretato che parte diaz e poi probabilmente entra chars nel secondo tempo questo è quello che ho capito io alla risposta alla domanda su chars però ci sta che magari oggi abbia fatto un allenamento chissà magari importante e quindi il mister magari decida di buttarlo nella mischia dall'inizio questo sarà un po il il dubbio che ci portiamo insieme alla punta insieme all'esterno destro però chars ripeto l'ho visto molto molto meglio sabato probabilmente qualcosa inizia a sbloccarsi e ragazzi la testa comanda sempre nel calcio che comanda è la testa sempre poi se la testa funziona ci sono le qualità tecniche e tutto il resto ma tutto parte dalla testa quindi io mi auguro che chars sblocchi mentalmente e si lascia andare e faccia vedere fuori tutto il talento perché il talento c'è lo sappiamo benissimo e quindi è questione di aspettare ci sarà il momento in cui verrà fuori guardate tonali guardate tonali le due giocate di tonali di sabato nel secondo tempo quel tiro meraviglioso all'incrocio che solo la scempiaggine di fabbri e di banti poteva annullare ma un tiro meraviglioso tecnicamente bellissimo e la giocata superba con quel pallone visionario per poi quella roba di girù che è una roba che incredibile la puoi raccontare per generazioni quando fai un gol così te lo porti per tutta la vita bellissimo però quella palla di tonali geniale lui che alza due volte la testa prima di guardare dove mettere la palla e poi la mette proprio là tonali l'anno scorso queste giocate non le aveva non le aveva e quindi no l'anno scorso ha iniziato ad averle due anni fa quando è arrivato il primo anno non le aveva è questione di tempo è questione di arriva il momento sarà da capire quando e quando arriverà ci toglieremo tanti sassolini dalle scarpe quindi ragazzi domani cremonese tutti pronti a spingere la squadra penso che ci saranno tanti tifosi domani ovviamente a cremona qui a un tiro di schioppo quindi tre punti tre punti per ripartire a gennaio a me starebbe bene ripartire da questo meno 6 a gennaio l'importante è non andare sotto ulteriormente partire da questo meno 6 se poi è meno tanto meglio secondo me ci lascia lì in una lunga corsa che sarà con il napoli perché io credo che piano piano viene fuori che il duello sarà tra noi e il napoli sarà un duello fino alla fine sarà un duello bellissimo ma non mi spaventano questi sei punti che ci sono adesso di distacco l'importante è che in queste due partite in cui ancora non siamo a posto in cui abbiamo tanti infortuni in cui siamo un po stanchi l'importante è chiudere non andando più sotto di meno 6 quindi l'obiettivo farne 6 per rimanere lì e poi a gennaio lavorare bene il mese di dicembre lavorare benissimo il mese di dicembre per poi a gennaio ripartire con i recuperi con i rientri che avremo con magari un intervento di mercato chissà perché no e partire all'attacco anche perché il 18 avremo il 18 gennaio avremo la supercoppa contro i neri assurdi è chiaramente un obiettivo che vogliamo assolutamente portare a casa anche perché loro adesso mentalmente incominciano a ragionare sul fatto che dovranno cercare di arrivare nelle prime quattro e questo potrebbe essere un problema questo potrebbe essere un problema perché loro hanno il terrore di non entrare nelle prime quattro perché i libri andrebbero direttamente in tribunale se non entra nelle prime quattro quindi dovremo anche giocare a livello mentale cercare di dargli un'ammazzata al 18 a livello mentale e poi andare a giocarci Tottenham e scontro con Napoli fino alla fine ragazzi domani per vedere un attimino se esce qualcosa sulla formazione per prepararci bene per Cremonese Milan da vivere sempre col cuore che batte Rosso Nero dal vostro bandito Rosso Nero una buona serata un pollicione a domani ciao ragazzi